Dietro sul capitano Marco Pomante, Pomante su dalla mano, sguardo profondo, apertura sulla corsia di sinistra per Infantino, su Rigione, attenzione Infantino, va via bene a Rigione, c'è su di lui Bacchetti, superato anche Bacchetti, il tiro e l'avete! 2-0 l'Aquila, Saveriano Infantino, 34esimo minuto, cosa ha fatto Saveriano Infantino? Infantino complimentato da tutti i suoi compagni di squadra, è arrivato addirittura Andrea a testa ad abbracciarlo, cosa ha fatto Infantino? Pallone lungo, stop a seguire, fuori 1 Rigione, poi rientro e supera anche Bacchetti che andava in chiusura e di giustezza, con freddezza, alle spalle di Bindi, si può dire?